salve amici oggi vi presento l'asta telescopica di stoker per prolungare le elettroseghe di magma questa asta è dotata di un vano batterie posteriore dove va alloggiata la batteria dell'elettrosega e un alloggio anteriore dove va inserita l'elettrosega ecco qua cosa importante per inserire l'elettrosega di magma è togliere la protezione impugnatura che sennò ci può dare impedimento per l'inserimento nell'alloggiamento allora molto semplice basta aprire un vite guidare questi due viti ecco qua e la protezione viene tolta ma poi togliamo le due viti in questo modo da una parte se poi vengono perse ecco qua ok poi e non girando ecco qua viene inserito l'apposito connettore a slitta nell'elettrosega questo qua e lo inseriamo chiudiamo il tutto e la scatto qua poi inseriamo la batteria in alloggiamento in questo modo in questo modo in questo modo in questo modo si allunga fino a quattro metri questo è l'asca di gli attrezzi di magma stoker molto comodo molto veloce ottimo attrezzo saluti alla prossima ciao